Siamo qui con Cetti Lautetta di Webamus, startup associata da Solombarda nell'ambito dell'iniziativa Startup Town che ha appena finito lo speed pitching qua alla SMAU e ci racconterà in 90 secondi come a Solombarda aiuta Webamus a implementare il suo business. Ciao a tutti, Webamus è associata a Startup Town d'aprile, quindi dal lancio del progetto e siamo molto contenti in quanto a Solombarda ci permette tramite questo progetto di sicuramente metterci in contatto con tutti gli operatori dell'ecosistema innovativo attraverso eventi come quello di oggi via l'ESMAU. In secondo luogo ci permette di metterci in comunicazione con le grosse aziende che è uno dei limiti delle startup attraverso programmi di open innovation e poi in terzo luogo ci offre una serie di servizi di consulenza e assistenza che facilitano il percorso di crescita e anche le attività quotidiane che una startup si trova a dover affrontare. Grazie mille, allora ci vediamo in associazione. Ciao a tutti.